Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo microvlog della sottoserie, diciamo, della serie, mettiamola così, vita da wargamer. Allora, rapidamente, perché è stato un microvlog, quindi andiamo rapidamente, di cosa parliamo? Parliamo di un problema annoso proprio dei wargames, che è quello della reperibilità. Molto spesso io vi dico, ah che bello, c'è questo wargame nuovo, provatelo, eccetera, eccetera, ma poi, dopo un mese che è uscito, voi mi venite a dire, giustamente, ma guarda che non lo trovo più da nessuna parte. Allora, sì, è un problema, è inutile nasconderselo, che è questo problema serio, c'è. Vediamo un modo con cui possiamo risolverlo. Un modo con cui possiamo risolverlo è quello del cosiddetto mercato secondario. Banalmente, cerchiamo anche dei wargame usati. Non ci crederete, ma anche wargame relativamente recenti, di pochi mesi, dopo un po', si trovano usati. Perché magari qualcuno l'ha preso, poi non l'ha capito che non lo avrebbe giocato, oppure l'ha provato un paio di volte ma non gli è piaciuto, tante, tante cose. Ovviamente questo ha maggior ragione per tutti quanti quei wargame, che sono anche un pochino più indietro nel tempo, sono un pochino più risalenti nel tempo, magari di uno o due anni fa, è quelli. È un ottimo modo per trovarli. Però si fa presto dire mercato secondario, si fa presto dire usato. Sì, ma esattamente come non so dove, quali sono i negozi dove andare per comprarlo nuovo, quali sono delle possibili fonti di questo, appunto, mercato secondario, di questo usato. Beh, ce ne sono diversi. Io vi dico un po' quelle che utilizzo io. Poi, magari voi, alla fine del video, assolutamente, ditemi anche voi quali sono quelle che utilizzate, normalmente voi condividiamo un po' le informazioni. Allora, prima di tutto, la prima fondamentale è questa qua, ve la faccio vedere. Questa è una puntata che sarà tutta quanta così a video, eh. Questa qua è Borg & Geek, il Geek Market. Cominciamo subito da qui. Attenzione, il Geek Market è stato rivisto, modificato, rimodificato un po' di tempo fa, ok? Poche settimane fa, prima era un pochino leggermente simile ai B, nel senso che c'era tutto un sistema automatizzato, chi vendeva riceve la notifica, chi comprava, comprava da lui con i prezzi, c'erano, insomma, un attimino più gestito. Adesso è un pochino più volontario, nel senso, se voi dite, ok, voglio comprare una cosa, chi lo vende lo viene a sapere tramite messaggio e poi vi mettete d'accordo tra di voi, quindi anche qui un attimino di attenzione. Però, a parte questo, non è cambiato nulla, però il fatto che si è cambiato questo, attenzione, non è da poco. Io vi consiglio di andare a vedere i post che ha fatto su questo, nel gruppo Val Game Falcom e Rico Cerbi, che ha appunto sviscerato questa nuova modalità ed effettivamente ha delle cose che funzionano un po' meno bene, però è anche vero che Borg & Geek non riusciva a stargli dietro. Quindi, comunque sia, questo è il sistema. Com'è il sistema? C'è il Geek Market, che è accessibile tramite Borg & Geek. Vi faccio vedere, per esempio, ecco qua, proprio in diretta, vado a vedere, io non so, di African Campetto. Eccolo qua. Ok, vi prendo qua proprio un working classicissimo, design e signature edition, vado a vedere qui, vedete un pochino qua, c'è scritto shopping, eccolo qua. Qua trovate tutto quanto. Vado a cliccare, per esempio, su questo, che è dalla Germania, vedo con la bandierina, e qui ci sono tutte quante le indicazioni, ok, per comprarla. Altrimenti, si entra nel Geek Market, che è questo qui, eccolo qui, dove c'è questa simpatica opzione, Find My Wands, che io ho già attivato qua, vedete, e potete, voi li mettete in wishlist, lui automaticamente va a incrociare la vostra wishlist con le offerte che ci sono sul mercato. E quindi, avremo, le potete sort per titolo, quindi le potete elencare per titolo, per venditore, così magari potete fare degli acquisti accroppati riducendo le spese di spedizioni, per paese di provenienza, vedete, un po', per currency, quindi per euro, sterlina, dollaro, eccetera, quindi, insomma, tutte queste cose qui. Poi, voi, ah, è 1942, lo voglio, tacca da qua, vedete qua, qua c'è il message, una nota c'era compra, perché poi partiva il sistema automatico, il venditore, questo qui, 511477, vabbè, riceverà il suo messaggio e quindi avrete la possibilità di comprarlo. Allora, vantaggi, vantaggi, beh, sono che appunto la scelta è assoluta, perché c'è tutto BGG, quindi sono praticamente tutti quanti i giochi che siano mai usciti. Un'ottima catalogazione, un'ottima possibilità di navigare, appunto, nelle fonti, fra l'altro questo mi ha fatto scoprire molti negozi, perché, per esempio, uno di quelli che avevamo visto prima è Richter Cosim, che è Richter Komplitz in una zona, è un negozio tedesco e che io non conoscevo e che ho conosciuto tramite BGG, perché poi spesso sono anche i negozi che vengono qui, quindi magari poi dopo andate a vedere sul negozio e ci sono le stesse cose e così avete scoperto un negozio in più, quindi anche per il nuovo. Questa cosa, appunto, però, in generale, tutte queste triangolazioni sono ottime, con la wishlist che voi fate, sarà un attimino di attenzione, di rigore, però è ottima. Ci sono poi altre cose, tanta scelta, abbiamo detto, e quindi ci sono, con questa interfaccia fatta così bene, veramente, veramente tanti titoli anche molto risalenti nel tempo e ogni tanto anche qualche gioiellino che è disponibile, magari si trova anche ad un buon prezzo, si manca a spuntare a dei buoni prezzi. Attenzione, una cosa interessante è che se vi faccio vedere, per esempio, io su Age of Renaissance, che è proprio un titolone classico, lo voglio assolutamente, eccetera, guardate qua che cosa c'è. Se io vado sull'item di Age of Renaissance, tada, price history, e avete un grafico in cui vi dice la variazione dei prezzi, questo fa sì, e poi comunque sia, anche, ce lo avete qua davanti, tutti quanti, vedete subito che se qualcuno spara un prezzo troppo alto, beh, sta sparando un prezzo troppo alto, troppo basso, perché lo sta sparando troppo basso, così basso, quindi avete un confronto immediato, più con le condizioni e tutto quanto, quindi, veramente ottimo. Quali possono essere un pochino i problemini? Questo nuovo sistema di vendita più diretta è un po' più laborioso e ha qualche garanzia in meno, questo ce lo siamo detto, ripeto, andate a vedere i post e direi a cerchi sull'argomento, fate attenzione, questo è generale, ma qui particolarmente le condizioni del materiale, chiedete se non ci sono, già nell'annuncio fatevi mandare sempre delle foto, attenti alle spese di spedizioni, soprattutto perché ormai è volontario, quindi occhio a quanto vi chiedo di spedizioni, e però è chiaro che ci sono alcuni titoli in cui non c'è tutto, qui è un usato, quindi può essere, alcuni titoli ci hanno 20 offerte, altri invece zero. Mi dispiace che non c'è un alert, guarda quando questo arriva qualcun altro che ne mette un altro titolo, purtroppo non c'è questo sistema automato, questo è BGG. Altra, beh, altra cosa invece, uscendo diciamo dall'ambito propriamente ludico, stretto, beh, ebay, vi ho preso una cosa a caso, ebay è una classica, inutile che ve lo sto a definire, c'è tutto, di tutto il mondo, e ovviamente ci sono anche work game, e molti. Allora, la scelta è amplissima, su ebay si possono trovare veramente delle occasioni, c'è il sistema dei feedback che c'è anche in BGG, però qui ovviamente questo è il feedback di ebay, quindi ovviamente è super professionale, massima garanzia, quindi gestisce bene anche, vedete qui, track ed eccetera, le spedizioni internazionali, in alcuni casi vi paga anche parte della dogana, con cui vi permette di pagare alla fonte la dogana, con delle tariffe vantaggiose. Problemi, attenzione, se non è un compralo subito, è un'offerta, e anche il compralo subito va, visto che voi potete o fare un'offerta, oppure fare qua il compralo subito, eh, fate attenzione per con i prezzi, e c'è gente che se ne approfitta un po', quindi attenzione al prezzo, eh, c'è chi fa il furbo un pochino sui prezzi, eh, e dicevamo, se non è un compralo subito, siete alla merce dell'asta, quindi voi fate un'offerta e poi andate a vedere come finisce quell'offerta, non c'è tutto, non c'è proprio tutto, 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 serve avere pazienza, c'è la possibilità di, qui sì, di fare, di salvare le ricerche, questo è importante, così lui ogni giorno viene a cercare, eh, c'è qualche nuovo gioco di Decision Games, perché io ho messo nella stringa delle ricerche di Decision Games, quella arriva sulla posta, quindi qualcosina sono riuscito a strappare, delle cose bellissime sono riuscite a strappare, Rebels and Redcoats, l'edizione totale, primo, secondo e terzo volume, ad un prezzo veramente ottimo, eh, però ci ho messo un anno perché mi arrivasse questo offerto. Eh, attenti anche qui ai prezzi di spedizione, perché alcune volte possono essere un po' alti. Dopo eBay, però, rimaniamo sempre nell'ambito dell'evento professionale, io vi segnalo questo qua, Vinted, oh, Vinted è per i vestiti, non solo Vinted, Wallop, eccetera, ma Vinted in particolare, e siccome è un po' per tutto, anche per l'Ui, ed è francese, molti in Europa si stanno spostando su Vinted proprio per la vendita di Wargames, vedete, per esempio, anche qui un vecchio Wargames della GDV, Eri Superiority, eccolo qua. No, Vinted è molto buono perché, eh, allora, abbiamo detto l'offerta è in crescita, in ampia crescita. La trattativa è una trattativa diretta, potete anche un attimino chiedere a chi vende, ma invece che a 40, in questo caso me lo puoi mettere, vedi, fai un'offerta, me lo puoi mettere a 35, eccetera. La gestione delle spedizioni è ideale, voi lo acquistate e poi dite voi che cosa, quale spedizione volete utilizzare, alcune sono addirittura gratis, e quindi, e questo è un po' da tutta Europa, e in generale si trovano molte offerte convenienti, cioè è difficile magari trovare la cosa singola, però vi può capitare che ci sia l'offerta molto conveniente. C'è una grande sicurezza, anche qui, feedback e garanzia, insomma, è un ebay però molto più facile, ok? E con un contatto veramente diretto tra venditore e compratore. I problemi, quali sono? L'offerta è ancora un po' limitata, è in crescita, ma è ancora un po' limitata. Alcune cose dell'interfaccia io le trovo un pochino controintuitive, la prenotazione, la cosa, eccetera, però il fatto qual è? È che comunque sia, c'è un contatto diretto, quindi magari voi trovate questo. Poi vado a dire, caro Massimo3993, che non so chi sia, se stai guardando questo video, ti saluto, che stai a Parma, gli mandato un messaggio, ma quali altri wargame hai da vendere? Ecco, dovete un attimino far trovare questi piccoli escamotage, perché per carità ci sarà la lista sua, però magari potete anche mettervi in contatto direttamente, dovete trovare un attimino alcune piccole cosette dell'interfaccia, la prenotazione, tutto, sono un po' così, leggermente controintuitive. Al momento che io sappia l'utilizzerai, c'è un altro problema, l'utilizzerai soltanto per quello che è in Europa, però comunque sia, c'è roba, c'è già veramente, veramente roba, e c'è un contatto diretto, fra l'altro, è anche utile per vendere, perché voi lo mettete in vendita, io sono venuto anche alcune cose. Niente, niente male, la gestione delle spedizioni è soprattutto il suo punto foro. Poi, dopo Vinted, altro canale di mercato secondario sono i negozi stessi, cioè i negozi del nuovo, dice, ma il nuovo vende l'usato, alcuni lo fanno. Ci sono alcuni negozi che hanno un angolo dell'usato anche sul web, oltre che dal vivo. Questo è un vantaggio notevolissimo, perché se è nella vostra stessa città, potete andare a ritirarlo di persona, possono funzionare anche per la vendita, è un conto vendita, cioè voi glielo lasciate con l'incarico di venderlo. Oppure, non lo so, ho un conto vendita in questo senso, oppure loro ve lo acquistano, lo mettono loro nel mercato dell'usato, questo ogni negozio si regola un po' a modo suo. Spesso, magari gli arriva un blocco di titoli, trovate in questo sito 10 titoli tutti assieme, magari quei 10 ce ne sono 3 o 4 che vi possono interessare, e poi, una volta che andate lì, vi fa anche scoprire il negozio tutto, perché anche del nuovo è la sua offerta di novità, e di nuovo, anche qui, può essere utile anche per voi per vendere. Problematiche di questo canale, però, attenzione, fate magari attenzione alle edizioni, questo è un problema che abbiamo anche per altri, che bisogna sempre chiedere, ma la prima, la seconda, la terza edizione, eccetera, magari sono delle edizioni passate, niente di male. Ho venduto diverse cose che erano delle edizioni passate quando sono arrivate le ristampe, però, sempre metterlo, perché è sempre giusto, ovviamente a prezzo ribassato. Alcuni negozi qui dipende, poi il problema qui siete un po' la mercea dei singoli negozi, alcuno francamente hanno dei prezzi un pochino discutibili, altri sono molto buoni, ci sono altri, poi dipende, questo veramente dipende dal singolo caso, e anche qui, in particolare, attenti alle condizioni materiali, però c'è un vantaggio che molto spesso potete andare lì direttamente, se non è che nella vostra stessa città, e lo vedete in materiale. Un'altra modalità, ancora, è utilizzare Facebook, i gruppi di Facebook, perché ci sono dei gruppi, in questo caso sto vedendo, caso sbelli, il mercatino, c'è anche l'armeria, c'è il European Wargamer's Market, come si chiamano, cercate su Facebook, lo troviamo, Wargamer's European Marketplace, eccolo qua, vedete, ecco qua, eccolo qua, perché è europea, perché sono spedizioni in Europa, ma tornando a caso sbelli, vedete, ecco poi ogni gruppo di mercatini appunto dell'usato si regola un po' in modo suo, però in generale funzionano un po' tutti così, con questi annunci. Vantaggi? Beh, intanto, essendo Facebook, spesso ci si conosce tutti quanti, o quasi, voi conoscete già anche chi sta venendo, quindi questa fa direttamente di persone, quindi questa è una grande garanzia. Hanno comunque dei sistemi di feedback, anche se non professionali, un po' più artigianali, però comunque sia, ci sono, molti consentono anche di fare delle ricerche, anzitutto, andate qua, voglio vedere, per esempio, che c'è qualcosa che ti posso dire su Leningrad, ne parlavo proprio l'altro giorno di Leningrad, e vediamo poi, c'è qualcuno che si vende Leningrad, beh, poi dopo andate qui a vedere, sì, già, magari questa vecchia edizione di Leningrad, attenzione che magari qualcuno l'ha già vettuto, sono vecchi annunci, non è facilissimo fare delle ricerche, però voi fate così, insomma, qualcosa magari trovate. Spesso è possibile consegna a mano, magari se siete appunto nella stessa città, oppure durante una convention, ve l'ho detto, sono cose che si conosce di persona. Generalmente ci sono, come in questo caso, molte fotografie, saluto Gianni Sorio, sto utilizzando esempio, ciao Gianni, bella stella queste cose, vabbè, molte fotografie, e quindi, comunque sia, è facile averle, mandate un messaggio, dice, guarda, mi mandi una foto delle pedine, vorrei vedere un pochino come sono messe, e immediatamente ce l'avete. Quali possono essere un po' le problematiche? Abbiamo detto, tutti quanti, i mercatini ognuno ha le regole sue, quindi dovete fare attenzione, sempre andare a vedere, assolutamente, informazioni, le regole, tutte queste belle cose qui, stanno pure nei file, il gioco in vendita, il regolamento, eccetera, eccetera, questo andate a vedere. Poi, può non essere facilissimo trovarli, io vi ho dato alcuni nomi, Caso Svelli il mercatino, l'armeria, l'European Wargamer's Market, quindi dovete un attimino conoscerli. L'opzione cerchia, abbiamo visto, magari vi fa vedere roba di diversi anni fa, che è già stata venduta, non è sempre facile, e non è detto che trovate ciò che state cercando. Qui serve pazienza, al cubo, ancora più che con ebay, però qui è più facile trovare anche delle offerte, comunque sia un attimino trattare, tutto quanto. Spedizioni e packaging sono gestite in autonomia dagli utenti, altro problema, problema, insomma, altra caratteristica, cioè, quindi non è un packaging professionale, ci sono, c'è gente, io ho avuto, ciao Mario, Mario Aceto, che mi ha mandato la roba impacchettata, che magari i negozi me le mandassero così, perché veramente, in maniera meravigliosa, altre volte può succedere che, mmm, non è, ovviamente questi li potete utilizzare anche voi, per vendere il vostro usato, farci un po' di soldini, però, ragazzi, come sempre, onestà, lealtà, perché siamo tutti quanti wargamer, siamo tutti quanti appassionati, abbiamo tutti la stessa passione, quindi, bell'impacchettamento, prezzi, non esagerate con i prezzi, onesti sulle spedizioni, io consiglio sempre spedizioni tracciate, quando io vendo, vendo sempre spedizioni tracciate, e quando non è, io chiedo spedizioni tracciate, o fate attenzione anche in questi casi, un po' i pagamenti, c'è chi vuole bonifico, chi vuole, quasi tutti chiedono solo il paypal, se magari fate la consegna a mano a contanti, quindi insomma, avete questa possibilità, è un pochino più artigianale, questo mondo di mercatini e gruppi facebook, però c'è, un'altra cosa un pochino artigianale, è magari durante gli eventi, per esempio, nella prossima piana delle orme, c'è un'asta in arrivo, spesso ci sono queste aste dell'usato, oppure dei mercatini bring and buy, come funziona bring and buy, non mi ricordo uno bellissima crema, la dadi.com, portate la roba, la lasciate là, gli mettete super il prezzo, l'organizzazione si occuperà di venderla, quindi, poi dopo, questo se vendete, se andate alla ricerca, entrate in questo stanzione, dove c'è, oppure ci sono questi tavoli, questa roba, ah bello questo, me lo prendo, date i soldi e via, e appunto bring and buy, veramente molto molto bello, e quale sono, ecco, quindi, ci possono essere dei veri tesori, spesso, magari trovate delle vecchie edizioni, ma dei costi risibili, mia moglie dice sempre, mi prende un po', anzi, ci prende un po' in giro, perché dice sempre che questi, queste aste, questi mercatini bring and buy, in realtà, sono sempre le stesse scatole, che ci stiamo facendo girare tra di noi, perché ci conosciamo tutti quanti, e in realtà, noi acquistiamo soltanto, l'acquisto di quella scatola, che poi l'anno dopo, rimetteremo di nuovo, in circolazione, sono sempre le stesse, è successo, è successo, la copra, ah ma questa era quella che io avevo comprato, ah ma no, l'avevo comprata prima anch'io, tre anni fa, cioè, vabbè, è divertente anche quello, però ecco, vantaggio fondamentale, potete vedere subito il materiale, perché siete lì, siete di persona, eccetera, e avete un contatto, molto spesso diretto con il venditore, quindi, più di questo, più diretto di questo, ve lo dà proprio a mano, problematiche, qualche problematica, cioè, sono delle aste, sono i mercatini, c'è quello che ci viene portato, c'è quel che c'è, e nelle condizioni in cui è, quindi, non è che potete, voglio questo assolutamente, se non c'è, non c'è, se qualcuno l'ha portato bene, bravi, oh, e dovete anche essere lesti, prima che il vostro amico accanto, voi prego, oppure che l'asta che partano con il lancio, ma vabbè, ma è sempre una cosa un po' furtiva, tra di noi, divertente è anche quello, e poi, l'altra cosa che richiedono, è il tempo e lo sforzo di andare all'evento, molto spesso, sono solo di persone, che grande sacrificio, ad un evento, di wargame, vero? ecco, un grande sacrificio, vabbè, a parte tutto, quindi questi sono un po' i canali, del mercato secondario, quelli che io utilizzo di più, fatemi sapere, se ne avete altri, se avete altri consigli, su questi canali qui, quali sono quelli, da cui vi rifornito voi, datemi un po' di feedback, teniamo un po' aperto questo video, la cosa di iscrizione, il spazio di iscrizione, perché questo è un po' un video di servizio, come tutti quelli di vita da wargamer, e io vi saluto, questo micro vlog, che secondo me non è neanche tanto micro, quanto abbiamo registrato, aspettate che lo sto registrando con OBS, fatemi vedere, e abbiamo registrato la bellezza di, boh, non lo so, spero che stia registrando, vabbè, poi vedrò dopo quanto abbiamo, quanto abbiamo registrato, ecco, 20 minuti, figuratevi, l'ho trovato, cambiato tutto OBS, vabbè, io vi saluto qui, vi auguro buon divertimento, e come sempre, ricordatevi, non sono giochi, se non li giochi, ciao.